Bumba ragazzi, benvenuti a un nuovo What the Fask, il mio format dove rispondo alle vostre domande che mi fate su Ask Ask è questa piattaforma che dà la possibilità di fare domande anche in anonimo, insomma Si parte un po' a un missile What the Fask E qui cominciano a chiedere, ma la skin di Ezreal Frullomane è bella a Mauri? Boh, nel senso che chi conosce il video di collaborazione tra Cotto e Frullato e Riot Games Tra l'altro lo trovate da qualche parte qui in giro, dove io faccio la puntata ispirata al League of Legends Dove appunto doppio Ezreal, è il momento di uno sfoggio di abilità Si parlò di una fantomatica skin da Frullomane di Ezreal, però... Eh, sarebbe bello, ma la vedo molto 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 difficile purtroppo Cazzo che sfoggio di abilità Andiamo avanti, ti è piaciuto doppiare Archer di Fate Stay Night Unlimited Blade Works? Conoscevi già il franchise? No, io non conosco il franchise, conosco il Ted Ice No, questa è una cazzata Mi è piaciuto tantissimo doppiare Archer, è stato un personaggio molto molto bello Soprattutto per come poi si rivela nel finale Conoscevo di nome il franchise, ma non l'avevo mai seguito, non l'avevo mai visto Però è stata una bellissima esperienza E anzi, sono contento perché sto ricevendo davvero tantissimi tantissimi complimenti In merito a questo doppiaggio e la cosa ovviamente mi rende molto molto felice Qual è il doppiatore che stimi di più? Oddio, non saprei fare un nome solo Diciamo che ci sono tanti doppiatori che io adoro, apprezzo per tante qualità diverse che hanno La cosa molto bella dei doppiatori appunto è quella del fatto che ognuno ha delle proprie caratteristiche Che sia di estensione vocale, che sia di timbro, che sia di caratterizzazione Ognuno di loro ha tante qualità E io dai grandi maestri sicuramente ho tantissimo da imparare Sai chi sarà il nuovo doppiatore di Brook? Brook di One Piece Sicuramente stanno parlando perché purtroppo qualche mese fa è scomparso Daniele Demma che dava la voce appunto a Brook Purtroppo no, non so chi sarà il nuovo doppiatore di Brook È ricominciato One Piece su Italia 2, lo doppi ancora te e Roger nella sigla Se no chi è il doppiatore? Non lo so se c'è la stessa sigla ancora Se la sigla è quella vecchia sì Se no boh, non lo so se è stata ridoppiata la sigla Quindi non lo so L'altro giorno ho scoperto che pilotete in Hercules è Giancarlo Magalli E mi chiedevo come avessero fatto a far fare delle parti incredibili a lui Enrico Patti, Frizzi ed altri non doppiatori nei film Disney Pixar Allora, diciamo innanzitutto che Magalli fa parte di una generazione di presentatori Anche Fabrizio Frizzi, persone che lavoravano in televisione perché avevano una certa formazione Lo studio della dizione, lo studio dell'intrattenimento Ok? Cioè erano lì perché sapevano fare quel lavoro Quindi una volta portati in sala doppiaggio Riuscivano comunque in qualche modo a tirare fuori delle cose Perché, mi ripeto, era una generazione che aveva una certa formazione per poter stare in televisione Nel senso, non erano uomini e donne, youtuber o reality vari, insomma Che poi vanno a doppiaggio, vanno a leggere e fanno cacare al ca Oh Mauri! Sai perché il Po è il fiume più lungo d'Italia? Perché sta un po' là e un po' qua Mi fai veramente schifo come persona Sai cosa però non odio un po'? Non odio Prozis Cos'è Prozis? Prozis è il mio sponso Che è un sito di integrazione, alimentazione, anche abbigliamento sportivo, volendo E ci sono tante belle robe che si possono acquistare sul sito e se volete il 10% di sconto E basta usare il codice ormai rinomato MEDNES10 Andate sul sito e date un'occhio Il primo anime che hai visto Il primo anime che ho visto penso sia stato Kenshiro Quando ero piccolo me l'ha fatto vedere mio fratello, mamma non voleva E mio fratello me lo faccia vedere di nascosto Infatti sono cresciuto molto traviato mentalmente Te lo stai vedendo, saremo? No No, mi spiace Come è stato doppiare un personaggio di uno shoujo come in Vampire Knight? Vampire Knight è un anime sui vampiri, il shoujo, sai che ho delle ragazze un po' così, no? Siamo vampiri, eh sì però, siamo biondi, siamo fichissimi È stato divertente soprattutto perché era uno dei primi ruoli che ho avuto importanti All'interno del doppiaggio degli anime giapponesi Tra l'altro, piccola curiosità Il doppiatore di Akatsuki Kain Che è il personaggio che doppiamo in Vampire Knight È lo stesso di Archer, di Fates Day Knight Quindi io, quasi dieci anni dopo, li ho avuto in cuffia lo stesso doppiatore giapponese È una cosa un po' una piccola robina divertente Meglio fumo o erba? Erba ragazzi, l'erba del vicino è sempre più verde Ciao, hai mai lavorato insieme a Edoardo Stopacciaro? Certo che sì, Edoardo Stopacciaro è il mio carissimo amico Tra l'altro, approfitto di tutto questo Metterò il link in descrizione o da qualche parte Edoardo Stopacciaro, oltre a condividere con me la passione per il doppiaggio e questo lavoro Condivide con me anche la passione per il cinema Ed è riuscito a chiudere un crowdfunding con il suo gruppo Che gli ha permesso e gli sta permettendo di girare un fan movie sui Ghostbusters Quindi andate al link che trovate in descrizione Seguite la sua pagina Il progetto si chiama RIGAL Quanto mangi? Mangio veramente tantissimo Sei per sei un merluzzo gay? Allora ragazzi, in merito al mio orientamento sessuale vorrei dire una cosa Molte persone pensano che io sia gay E non è così, non sono gay Sono etrasessuale Mi spiace, mi spiace nei confronti di chi ci sperava Ma mi piace la fica Quindi se anche a voi piace la fica O piace il cazzo, piace quello che volete Di qualunque colore o etnia o pianeta non mi interessa L'importante è che vi amiate Seguitemi su tutti i miei social che trovate qui in descrizione Compreso Ask Sul quale potete farmi le domande che io leggerò nel prossimo What up Ask? Dove non so cosa dirò Ma lo farò Ciao